Una sorpresa. Su, avanti, apri la porta. Ma chi sarà mai a quest'ora? E apri. Ah, è Maria Rosa. Questa l'ho fatta io per te con le mie mani. Tanti auguri. Perché? Oggi che festa è? È il tuo compleanno. Ah, porca miseria, me ne l'ho scordato. Tu sei nato il 22 aprile, ti tesi un toro. E lei è vergine. In tutti i sensi. Eh, ci credo. Se rimarrai così tutta la vita, ti faranno santa. E per te non dovrebbe essere difficile. Maria Rosa, perché non ti fermi a mangiare con noi? Ma no, ma Maria Rosa ha un sacco di cose da fare. Deve andare a casa. È vero che hai da fare? No. Hai visto? Lei deve andare a casa a mettersi in faccia una crema per mandare via l'acne. Che sarebbero poi brufoli. Mettine tanta, eh? Altrimenti prova col vetriolo. Ciao, vai, eh. Ciao. Ehi, aspetta. Deve essere buona. Eh, ma come te sei vilano, Artemio. Artemio. Ma quanti anni ho? 36, 37. Ho perso il conto. 40. Come 40? Vuoi scherzare? Ma vuoi che non lo so? Tite sei nato lo stesso anno che il tuo povero papà ha piantato il castagno sul confine del terreno. Tite che l'hai stessa età del castagno. 40 anni precisi, te capii? 40 anni? Allora sono vecchio. E molla la torta! Oh, se dite cosa vecchio, sei ancora un ragazzo. 40 anni. E proprio come il castagno sono rimasto lì dove mi avete piantato. E loro fanno la festa, fanno la torta per festeggiare. 40 anni passati qui, in mezzo agli zulu, a consumare la mia giovinezza. Ma andate a fanculo! Faminga, in sci, gioia. Te me pareti un matto. Mi sono lotti i coglioni! Io devo fare assolutamente qualche cosa. Non voglio fare la fine del castagno! 40 anni per un uomo, sono l'ultima spiaggia. Oh signor, se ne vuole andare al mare.